Online le liste di attesa in tempo reale dei quattro pronto soccorso di Atri, Giulianova, Santomero e Teramo. Basterà collegarsi con il proprio telefonino, tablet o computer nella pagina iniziale del sito della ASL di Teramo per vedere quante persone sono in attesa di visite e che grado di gravità hanno, se codice rosso, giallo, verde o bianco. I teramani vedranno su internet 24 ore su 24 la quantità di accessi e i tempi in continuo aggiornamento in modo da potersi rivolgere alla struttura meno affollata. In tal modo si offre l'opportunità di far conoscere subito la situazione dei vari pronto soccorso non solo con gli schermi video situati nelle sale di attesa ma anche online. A Teramo è partito questo servizio nello spirito di realizzare davvero quanto scritto nel logo dell'ASL di Teramo Il meglio è nel tuo territorio. Un'operazione molto utile, si legge nella nota dell'ASL di Teramo, per la gente ma anche per ridurre gli intasamenti nei poli d'emergenza, finalizzato a migliorare la funzionalità e l'organizzazione di centri nevralgici per l'ospedale anche perché in continua evoluzione.